eccoci qua con le pagelle ragazzi eccoci qua dopo essere andati a più 9 dopo aver goduto ieri sera e aperta e chiusa parentesi stavo pensando oltre a portare i video post partita dell'inter magari vi porto anche quando le vedo e quando posso dei post partita di altre partite che magari ci interessano come appunto poteva essere quella di ieri per esempio poi un altro format che porterò e sono le reaction ma non le live reaction ovvero faremo le live reaction poi la live reaction magari la metterò privata e editerò il video e posterò direttamente il giorno dopo la reaction di quella partita spero che vi piaccia ditemi cosa ne pensate ma noi andiamo subito a vedere le pagelle di torino inter partite ragazzi difficilissima andiamo subito a vedere il nostro sansamir andanovic andanovic da un 6 ragazzi perché sul palo sul palo di lianco ovviamente lui non ha colpe poi lo aiuta lukaku che in qualche maniera in qualche maniera spazza non viene praticamente quasi quasi mai chiamato in causa anche se devo dire che magari sul gol ovviamente lui non ha colpe perché c'è stato tutto un parapiglia generale però magari poteva uscire quando il pallone è andato a pallombella prima che arrivasse la spinta su skriniar il pallone si è alzato molto in area piccola lì magari poteva fare qualcosa in più però non gli si può dire niente quindi andanovic 6 skriniar il nostro skriniar ragazzi partita dopo partita acquista sempre più fiducia adesso si vede anche quando avanza una fiducia veramente sempre di più dimostra fiducia palleggia fraseggia prova a crossare insomma avanza molto in attacco molto propositivo fa un altro colpo di testa che comunque va fuori dallo specchio della porta non brillantissimo comunque in certe azioni perché c'è un fallo ingenuo dopo dove perde palle subito dopo fa fallo che poteva costare caro che genera la punizione che poi porta al pallo di lianco che per fortuna ci ha salvato però per il resto ragazzi non ci sono state sbavature a parte questa piccola cosa 6 devrai 6 più perché comunque c'ha un cliente come sanabria che non è facilissimo però ragazzi partita lucida partita composta non fa sbavature non la sua partita una partita bella non concede niente quindi 6 più quel più perché almeno lui non ha fatto un errore che poteva costare caro quindi 6 più bastoni invece 6 meno ieri ragazzi intanto era sulla marcatura che porta il pallo di lianco perché era lui che lo marcava poi è scivolato e vabbè è scivolato però fatto sta che poteva costare caro poi per fortuna tra lianco che sbaglia il pallo luca che allontana ci siamo salvati poi per il resto ragazzi meno lucido del solito ma ci può stare non è che può farti ogni partita al top fa dei passaggi sbagliati insomma non il solito bastoni 6 meno akimi akimi ragazzi ultimamente non è in forma non è brillante sbaglia anche un gol davanti la porta è un rigore in movimento se non sbaglia l'autaro che butta in mezzo il pallone e akimi lo tira si ricupara ma li poteva tirare meglio io gli do ragazzi gli do gli do un 5 non è la sua partita perché con le squadre che mettono il pullman lui ha bisogno di spazio e quant'altro non fraseggia bene insomma ultimamente è poco brillante nell'ultima partita l'abbiamo visto barella barella ragazzi può giocare male può giocare non fare la sua migliore partita però il suo lo metto se lo mette sempre barella gli do sei che comunque il migliore dei tre di centrocampo dopo vedremo però barella ragazzi anche quando non fa le partite eccezionali il suo zampino e la sua gambetta la mette sempre è sempre l'ultimo a mollare compresa la partita ieri magari complice anche la partita pessima di akimi quindi dalla sua fascia ha fatto ancora un po più di fatica però non ha fatto chissà quali errori una partita non brillante però sempre lì sul pezzo c'è sempre l'ultimo sempre a mollare brozovic brozovic 5 e mezzo perché è marcato da verdi per tutta la partita quindi come con l'atalanta anche oggi gli hanno messo un uomo addosso che è verdi non ha fatto danni ma non ha neanche brillato con qualche giocata molto lento molto prevedibile lui è quello che dette ritmi se lui va lento anche il resto della squadra automaticamente gira lentamente quindi brozovic 5 e mezzo gagliardini 5 ogni volta noi speriamo che gagliardini ci faccia gioire ormai è diventato quasi un meme però ragazzi entra al posto titolare al posto di ericsson che ha cercato di vidale che non c'è va vicino comunque al gol in un'azione con colpo di testa con sirigo immobile però ragazzi per il resto con lui in campo l'inter è piatta è lenta più del solito è molto prevedibile sbaglia passaggi sbaglia appoggi non c'è niente a parte quel colpo di testa non c'è niente con lui in campo non si riesce ad avere una manovra fluida 5 perisic 6 meno inizialmente fa un ottime galoppate comunque perché fa un cross per lautaro per il colpo di testa e uno per lukaku che però la stoppa di mano poi però piano piano col passare della partita scompare 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 va a finire che non fa niente quindi 6 meno lukaku lukaku 6 ma raggiunge una sufficienza striminzita solo grazie alla freddezza con cui ha saputo battere il rigore che ci ha portato in vantaggio perché ragazzi una partita in cui è un fantasma marcato da bremer dal primo all'ultimo minuto è marcato molto bene non abbiamo visto un lukaku a meno con l'atalanta era una partita difficile in cui noi eravamo stiacciati grazie a lui comunque riuscivamo a andare ad andare su grazie ai suoi appoggi a prendersi falle quant'altro oggi con la partita del torino invece è proprio un fantasma proprio non ho visto niente di lukaku però raggiunge questa sufficienza proprio striminzita grazie comunque a un rigore pesante perché eravamo solo 0 a 0 la partita era bloccata e con la freddezza con la battuta raggiunge questa sufficienza striminzita lautaro 8 lautarino 8 e il toro 8 perché ragazzi ha fatto è vero è vero ha fatto qualche giocata sbagliata qualche stop sbagliato un colpo di testa sul cross che ha girato e l'ha buttata fuori però ragazzi si procura il rigore che va a sbloccare la partita si procura quel rigore che è decisivo perché la partita bloccata se non si sbloccava con qualche episodio con qualche giocata dei singoli l'ho detto anche in live qua in quella partita serviva o un episodio o una giocata dei singoli qui c'è stato sia una giocata in cui lautaro si mette davanti al pallone lo protegge sia questo episodio del rigore nettissimo inoltre segna un gol decisivo perché dopo il pareggio mi pare che anche lui ha buttato in mezzo il pallone per la chimica e poi sbaglia però dopo fa un gol bellissimo con un colpo di testa gol decisivo che ci fa portare a casa la vittoria e appunto ieri live l'avevo detto se non ci so se senza un'azione di sì dei singoli questa partita non la si vinceva ed è qui che è entrato in scena el toro lautaro martinez otto veniamo ai subentrati ericsson e young allora ericsson entrato al 56 esimo ericsson sei e mezzo ragazzi sei e mezzo perché con lui in campo la manovra dell'inter è un'altra cosa una manovra più fluida inoltre è sua la verticalizzazione che porta poi al rigore perché ericsson verticalizza se azione si aziona la lula e poi succede il rigore quindi si vede che proprio lui con lui la manovra centrocampo è molto più fluida fa delle giocate che di prima tocco e via passaggio tocco un tocco via proprio più veloce più fluida quindi sei e mezzo young 5 e mezzo ieri non la migliore partita di peric ma young è riuscito a fare peggio ragazzi perché noi ci lamentiamo magari a volte di peric anche se ultimamente sta facendo bene però ragazzi young è entrato ha fatto peggio è entrato ha fatto peggio di peric svogliato non in partita ed era difficile fare peggio di peric ieri perché peric come ho detto 6 meno non è che ha fatto a parte quelle due galoppate e cross non ha fatto altro young ha fatto peggio 5 e mezzo sanchez e il nino maraviglia 7 7 7 questo giocatore o ci fa gioire o ci fa smadonnare perché quando questo giocatore comunque entra in forma ed entra in fiducia cambia totalmente la squadra ieri è entrato è in forma ultimamente da molta imprevedibilità all'inter e sull'assist per il gol del vantaggio dell'inter con con l'autaro martinez quindi un bel cross pennellato per il colpo di testa di l'autaro quindi assist fondamentale sanchez 7 dal male vecino senza voto perché sono entrati se non sbaglio a un minuto due minuti della fine senza voto anche se aperta e chiusa parentesi molto contento per il ritorno in campo della nostra garage a rua vecino quindi speriamo che questo sia un aiuto in più e che torni comunque senza problemi in forma e quant'altro perché ci serve ci serve ci serve visto che con gagliardini in campo facciamo fatica magari con vecino le cose magari possono andare meglio vediamo un armi in più magari non farebbe male conte 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 sei più sei più perché abbiamo giocato male è la terza partita in cui giochiamo male ma sinceramente sti cazzi ragazzi sti cazzi se l'inter gioca male sti cazzi se non facciamo un bel gioco sti cazzi sti cazzi l'importante è portarsi a casa i tre punti e sinceramente mancando quante sono 11 partite alla fine non me ne feca un cazzo a me del bel gioco quindi a me interessa portare a casa i punti gli anni scorsi l'anno scorso queste partite non le si vinceva quest'anno soffriamo giochiamo male quant'altro ma i punti gli si porta a casa gli do un più perché comunque se abbiamo giocato male abbiamo sofferto e quant'altro quindi da sei li do quel più perché azzecchi cambi azzecca il cambio con sanchez invece di togliere una punta per una mettere una punta per una punta decide di mettere dentro tre punte dare più imprevedibilità più peso offensivo e questo lo premia perché sanchez da file cross proprio per lautaro martinez se avesse fatto sanchez per lautaro avesse tenuto due punte non so come sarebbe andata quindi bravo conte a tentare le tre punte e niente bravo con i cambi quindi sei più io con questo ragazzi ho finito noi adesso avremo il sassuolo e vedremo come andrà ditemi cosa ne pensate di questi voti se avreste cambiato qualcosa voti in più voti in meno se siete d'accordo se mi sono dimenticato qualcosa eccetera eccetera e ditemi cosa ne pensate dei nuovo format delle reaction se vi possono piacere perché adesso le live li faremo una volta da me una volta dal bomber nero azzurro quindi ragazzi vi aspetto e ditemi cosa ne pensate nei commenti un bel like inscrizione sempre forza inter e alla prossima ciao ragazzi